È stato promosso il Contest Vinci Monti Dauni, un vero e proprio concorso dedicato a tutto il personale medico-sanitario impegnato a livello nazionale nell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. I vincitori del Contest potranno beneficiare di una vacanza di tre giorni a luglio per due persone in giro sui Monti Dauni, un vero e proprio viaggio di nuove esperienze in cinque diversi borghi dei Monti Dauni. Un'iniziativa ideata, organizzata e promossa dal GAL Meridaunia con il contributo di partner territoriali pubblici e privati che hanno offerto servizi e attività a titolo completamente gratuito.